Tornano i sondaggi di SWG realizzati per il TGD la 7 del lunedì condotto come sempre da Enrico Mentana. E non portano buone notizie per il centrodestra, com'era preventivabile, dato che tra il caso di Luca Morisi, l'inchiesta di Fanpage e anche le violenze fasciste e squadriste verificatesi a Roma sono stati strumentalizzati da una certa parte politica per discreditare Lega e Fratelli d'Italia. E in particolare i due leader, Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiamati quotidianamente a rispondere al fango proveniente da sinistra. La situazione politica attuale si riflette quindi nel sondaggio di SWG, condotto 28 giorni dopo l'ultimo, in tale arco temporale Fratelli d'Italia si è confermato il primo partito nazionale con il 20,7%, ma in flessione di 0,3 punti. Peggio la Lega che vede avvicinarsi pericolosamente il PD rischia di scivolare al terzo posto, il partito di Salvini è rilevato al 19,2%, meno 0,8% rispetto al mese scorso. I dem di Enrico Letta recuperano invece 1,0,3 e risalgono al 19, meglio ancora l'alleato Giuseppe Conte, che un po' a sorpresa riporta il Movimento 5 Stelle al 16,9%, più 1,1%. Dietro c'è sempre Forza Italia, stabile al 7,1%, mentre si segnala la crescita importante di azione, più 0,74,1% raggiunto, con Carlo Calenda che sfrutta il buon risultato a Roma per salire anche a livello nazionale. Grazie a tutti!